Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento. Questa sera un'argomentazione che è piaciuta tantissimo, ne abbiamo parlato un anno fa, ha riscosso grande successo e grande interesse nonché curiosità, perché parliamo di piante, di salute delle nostre piante, piante ad alto fusto, quindi alberi, parliamo di querce, di olmi, di piante bellissime che però possono avere nella loro lunga vita un momento in cui si ammalano come tutti o vengono attaccate da insetti e da parassiti. Allora noi un anno fa abbiamo ospitato qui un tecnico fitoiatra, Sauro Allegrezza, un esperto in materia di piante che praticamente le cura e gli fa come delle flebo, noi lo abbiamo chiamato l'uomo delle flebo delle piante ed è ritornato qui da noi, Sauro ben ritrovato. Buonasera a voi tutti, grazie. Ben ritrovato, Sauro Allegrezza di nuovo qui con noi per parlarci di questa tecnica che lui ha messo a punto, è una tecnica che si usava in passato, tu l'hai ripresa, hai messo a punto anche le sostanze che vengono utilizzate in questa terapia, endoterapia, lo vedete qui sopra la mia testa, endoterapia e devo dire che anno scorso avevamo visto una serie di fotografie di piante bellissime che purtroppo versavano in grossa difficoltà. Vedete, il modo suo di curare le piante è quello che vedete qui di fianco a me, eccolo, ci ha praticamente appiccicato alle piante queste che sono delle bottigliette con questa sostanza rossa, insomma gli fai le flebo? Sì, sto esattamente facendo delle flebo, praticamente arrivo su linfa, cioè tramite linfa arrivo in tutte le parti della pianta, ove altrimenti non sarebbe possibile visto che ci sono degli insetti che stanno fra la corteccia e il tronco, quindi nessun prodotto naturale o chimico potrebbe raggiungerlo. Con questo sistema che è già stato adottato in passato come dicevi giustamente, io l'avevo già visto in passato, fatto, non sapevo cosa mettessero dentro, però naturalmente io ho a disposizione la chimica moderna con i prodotti a impatto ambientale praticamente zero, anche perché questo qui non si disperdono i prodotti nell'ambiente e l'anno scorso ci ho avuto, era Gianni che ci aveva delle soddisfazioni, ma l'anno scorso dopo la trasmissione su Fano TV ci ho avuto tante chiamate, anche in ritardo in realtà, perché la cura a queste piante si fa tra giugno, luglio, ad agosto sei al limite già praticamente e qualche pianta non è andata a buon fine ma il segnale te lo dà subito la pianta quando non va a buon fine, lo vedi subito dalla bottiglietta che assorbe male o altro, però in realtà l'anno scorso ho avuto un sacco di soddisfazione, in particolare quest'anno quando ho rifatto le foto sulle piante che ho curato l'anno scorso, sono ripassato quest'anno, mi si è riempito il cuore d'orgoglio, mi è dispiaciuto anche su qualche pianta che sono arrivato in ritardo quando mi hanno chiamato in ritardo perché magari anche il passaparola stesso che hanno fatto è arrivato in ritardo, però mi ha dato gusto, insomma nel senso che... Grande soddisfazione. Molto, sì. Ebbene, noi lo abbiamo spiegato l'altra volta ma per chi non l'ha seguita questa puntata, a parte che c'è sul nostro podcast, quindi se volete ve la potete andare a rivedere, ma visto che abbiamo nuovamente Sauro qui nei nostri studi, parlaci tecnicamente perché poi Sauro, oltre ad essere un fitoiatra, è un tecnico del Consorzio Agrario Provinciale di Ancona, quindi ha tutto il territorio, il bacino del Metauro nel quale opera, quindi è conosciutissimo dagli addetti ai lavori, un po' poco dal pubblico di casa di tutti i giorni, quindi però devo dire che, insomma, se ci puoi spiegare in breve come operi sulla pianta. Allora intanto devo individuare il tipo di pianta che ho davanti e il problema che c'ho e adesso io ho fatto una scaletta con delle foto che poi adesso vedremo e io in base al tipo di pianta so che problematica ha la pianta, cioè se è un olmo o un altro, insomma se c'è qualche foto magari iniziamo. Certo, sì, però tu diciamo metti a punto la sostanza a seconda del problema della pianta. Allora io in realtà uso una serie di fungicidi, battericidi dentro la bottiglietta, metto dei fungicidi e dei battericidi perché io mi trovo di fronte o dei batteri, in natura ci sono funghi e batteri, io mi trovo funghi e batteri e mi trovo gli insetti che trasmettono comunque le malattie o fungine o i batteri mi trasmettono, quindi devo comunque mettere dentro un prodotto, dentro la bottiglia, normalmente a base di nicotina, per cui muoiono gli insetti che trasmettono la batteriosi o il fungo, il patogeno comunque sia, quindi praticamente ho messo a punto sta miscela che mi è andata bene negli anni, quest'anno ho già curato delle piante, l'ho ancora ulteriormente perfezionata e ho messo dentro in aggiunta, di solito non dico quello che metto dentro. No, 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 non svegliamo i segreti, non svegliamo i segreti, però metti a punto questa miscela che è frutto di studio, di sperimentazione e che ti sta dando grossi risultati. Allora, capito un po' la teca, che poi le fotografie sono molto esplicative, quindi insomma si capisce bene come materialmente si opera. Allora, noi anno scorso abbiamo visto delle foto e noi le vogliamo rivedere perché tu ce le hai orgogliosamente portate per vedere, insomma, a un anno di distanza come è andata, insomma. Quindi queste sono le foto che... Riccardo, se ce le vuoi mandare, noi le vediamo così, ecco, eccoci qua le prime. Questi sono, questo è un Olmo a Passoripe, l'ho curato, me l'ho chiamato l'anno scorso, questo era i primi di luglio, la pianta è praticamente a metà secca e guardate il braccio a sinistra e questa è di quest'anno la foto, c'è la margheritina sotto, guardate il braccio sotto dell'Olmo, quello a sinistra e vedete che praticamente la pianta è la stessa. È ripartita. Praticamente questa qui, la pianta, da chi l'ha vista, dai giardinieri, era stata data per spacciata la pianta, un Olmo che comunque ha la sua bella età, perché l'Olmo, questo è un Olmo campestre, è una varietà molto sensibile. Possiamo rivedere la foto di prima, Riccardo, se non ti... no, la prima, quella del 2018. Ecco, vedi, si vede in alto a sinistra, per voi che guardate, tutta una parte bruciata. Esatto, e le bottiglie sotto, si vedono le bottiglie sotto che avevo messo, perché io praticamente ho curato prima la pianta e poi ho dato disposizione al proprietario dell'Olmo, la moglie si chiama Giulietta, ci teneva in modo particolare a quest'Olmo e praticamente l'aveva visto perso, insomma, anche perché gli avevano detto che non c'era cura. Certo, e invece adesso è diventato così, eccolo qua. Questo è quest'anno. Beh, direi che le foto parlano da sole. C'è da dire una cosa, dunque, adesso io lì, quest'Olmo è andata benissimo, perché comunque sia nei paraggi non ci sono olmi secchi, perché praticamente la malattia, il patogeno che colpisce l'Olmo è portato da un insetto, qui praticamente di olmi secchi nei paraggi non ce ne sono, però io sono molto attento, nel senso che non è che una volta che ho curato la pianta noi siamo a posto, è da controllarla come un'altra pianta, come si fa con la pesca o con un melo. Certo. Io ho detto di controllare la pianta se c'erano dei rametti in cui le foglie si ammosciavano e in effetti c'era qualche rametto, perché praticamente degli insetti hanno riattaccato il rametto, glielo ho fatti togliere, glielo ho fatti togliere, ma non sono riintervenuto. Se la cosa si riaggrava, perché l'attacco c'è, rifarò le bottiglie, finché la pianta deve essere sana, insomma. Partire bene. Vediamo altre foto, Riccardo, guarda, così... Questo è l'insetto. Ecco. Questo è il famoso, è lo scolitide, è l'insetto che trasmette la mattia, ce ne sono due tipi e sfarfalla praticamente due volte all'anno si muovono e colpiscono i rametti più giovani alle ascelle delle piante e la pianta praticamente blocca la linfa, praticamente noi abbiamo una tracheomicosi, blocca la linfa in modo che cerca di salvarsi la pianta, invece non è così. Col prodotto che metto dentro io nelle bottigliette, tra cui Stanno ho introdotto i sali d'argento, che è un battericida, fungicida, che ho provato l'anno scorso con soddisfazione, Stanno l'ho introdotto nella bottiglietta in aggiunta ai già 5-6 prodotti che ci sono dentro e proprio per cercare di bonificare la pianta, l'argento sappiamo che lo usavano già gli antichi romani per purificare l'acqua, quindi è una cosa vecchia e presumo che il mio predecessore che aveva fatto i buchi abbia usato i sali d'argento, io penso che abbia usato i sali d'argento perché il rame sicuramente non sarebbe stato solubile e assorbito dalla linfa, secondo me questa è una cosa che mi è venuta a me insomma. Un tuo pensiero, vediamo altre foto così le commentiamo. Questi sono i fori sempre dello scolitide dell'insetto ma sono piante vecchie che sono nei paraggi, queste qui la forestale le fa distruggere giustamente e anch'io le faccio distruggere perché la lotta meccanica è una cosa indispensabile quando si curano le piante, i rami secchi, le piante secche vanno tolte e bruciate immediatamente, cioè non vanno accatastrate per l'inverno perché l'insetto da lì riparte, quindi anche i ramettini secchi o altro perché l'uomo è un veicolo di infezione, è un veicolo di infezione dell'insetto, è un veicolo di infezione tutto, anche il vento stesso, però voglio dire comunque sia la lotta meccanica che è la prima cosa che va fatta su queste piante, quindi una volta bonificata la pianta io la bonifico all'interno, l'agricoltore o il giardiniere bonifica all'esterno e praticamente una doppia azione, una mano lava l'altra, tu la lavasi una faccia. Esatto, allora altre foto che ci ha portato Sauro, questo cos'è, bello questo? No, questo sì, bello secco, questo era un olmo secco l'anno scorso, questo sono intervenuto... Sulla destra, vero? Ci sono i rami secchi. Esattamente, sì, questo è curato, sotto si vedono le bottigliette, si vedono, e l'ho fatto capitozzare questo qui perché praticamente era un olmo, è sempre un olmo campestris, il proprietario ci teneva in modo particolare, la proprietaria insomma, e l'ha capitozzata e ci sono foto successive che ho fatto quest'anno, ecco, praticamente non c'è la classica chioma, però c'è i fogli, vede c'è dei cacci più lunghi e praticamente sta riprendendo la pianta, naturalmente questa qui da tenerla controllata perché comunque sia soggetta a attacchi da insetti, perché ci saranno sicuramente altri olmi in giro secchi che trasmettono lo scolitide, quell'insetto che abbiamo visto prima, si riattacca, quindi praticamente va tolto subito la rama con le foglie mosce e secondo me se eventualmente magari le ramette mosce aumentano è da rifare eventualmente sulla pianta perché una pianta del genere vicino a casa fa anche arredamento, insomma. Come no, infatti penso che oltre a esserci un aspetto emotivo che ognuno di noi magari quando vede su una bella pianta ci tiene che questa rimanga nel tempo, c'è anche un aspetto poi estetico perché queste piante così secche sono brutte. Ma anche perché magari ci sono piante che magari è visto da bambino e poi dopo da grande magari ci tiene a conservarla. Mi è dispiaciuto l'anno scorso, l'ho fatta una signora di Cabernardi che ha visto la vostra trasmissione, mi ha chiamato, era in ritardo e aveva due olmi in cui lei giocava da bambino, la signora è grande, insomma, con metà. Dei due olmi ho visto che il primo l'ho salvato vicino a casa, passando l'ho rivisto e invece quello in cui giocava da bambina gli si è seccato. Però ho visto che la pianta praticamente ha assorbito la bottiglietta e poi ha ributtato fuori e lì per lì non avevo capito che aveva già bloccato i vasi linfatici. Ah, ecco. E praticamente però il colore rosso mi è diventato colore acqua sporca e praticamente la pianta sapeva che stava morendo e l'ho rivisto. E quelli mi è dispiaciuto sinceramente perché giocava lei da bambina, capito? Però il resto sono state crescendo delle soddisfazioni. Perché l'importante è essere tempestivi, cioè farlo nel momento giusto è una garanzia di buon successo. Esattamente, e invece lo scrupolo toglie il più materiale infetto possibile in modo che naturalmente non ci sia modo che le infezioni le propaghino, insomma. Qual è il periodo giusto per intervenire? Da metà giugno a tutto luglio. Ok. E se uno si accorge in ritardo, anche i primi d'agosto può andare bene, anche perché non tutte le stagioni sono uguali. Quest'anno la stagione si è un po' allungata con le piogge. Prima era anticipata, poi si è allungata col freddo, con le piogge. Quindi, di conseguenza, credo che si possa arrivare anche i primi d'agosto. Però il risponso... Cipressi o altro, lì nello specifico la linfa si blocca e praticamente mi ributta fuori la resina, la pianta e non me le fa sorbire. Non me le fa sorbire. Ci arriviamo dopo. Certo. Altre foto che ci hai portato anche qui. Questo è un olmo minimo di 160 anni all'incirca. Questo è di Pesaro, del signor Vitale Domenico, si può dire il nome? Come? Che mi aveva chiamato, non so se l'ha visto su Fano TV o gliel'hanno detto. E questa è la foto dell'anno scorso con le bottigliette intorno. È vero. Questo è un olmo, sempre su una casa Usovilla, è un olmo sia d'affetto che d'effetto. Effetto, affetto. Questo è l'anno scorso. Quest'anno mi ha rimandato le foto, perché gliel'ho chieste senza andare a Pesaro. E questo? Esatto. Lui ha potato e sta andando molto bene. L'ho richiamato, gli ho chiesto se aveva delle rame moche, cioè se con le foglie avvizzite, nel senso che eventualmente doveva levarle oppure mi doveva richiamare. E mi ha detto, no, guarda che la pianta va benissimo e quindi non sono rintervenuto perché la pianta va bene, però io ho detto tenela sotto controllo perché comunque sia, cioè voglio dire, quando fai l'operazione dopo può subentrare una setticemia o altro, io ci guardo. Senti, ho visto che in alcune piante ci sono tre bottigliette, in alcune ce ne sono cinque, sei. Cioè anche la quantità di prodotto che tu adoperi lo valuti in base alla gravità del problema o sbaglio? Sì, esattamente così, in base al diametro del tronco, perché praticamente ogni pianta è fatta, uso tipo la ruota della bicicletta con i raggi, no? Praticamente più è grosso il tronco e più devo mettere le bottigliette in modo che copra la superficie, la chioma della pianta e su piante magari più povere come un pesco o un olivo ne bastano meno, ma su un olmo non puoi rischiare che rimanga la rama, o su una quercia per esempio non puoi rischiare che rimanga una rama infetta e che ti compromette la pianta centenaria o più oridecennale. Allora, le foto con il primo e il dopo sono molto belle, ne abbiamo delle altre, eccola qua un'altra. Ah, dunque, questa è curata, questa è una pianta della signora Benigni a Ripe, questa è, c'è un'altra foto comunque, la pianta era così questa qui l'anno scorso. Quindi noi siamo, questa è come era nel 2000? Questa era l'anno scorso, mi ha chiamato, non so come mi ha trovato, mi ha chiamato e quest'anno mi ha richiamato e la pianta è diventata così. E la pianta è così, mi ha richiamato perché praticamente la signora, la signora Benigni, la moglie del farmacista, comunque sia, ha visto che la cura ha funzionato, che poi tra l'altro è un agronomo o una roba simile, si è accorta che la cura gli ha funzionato, però si è anche accorta che c'aveva dei rametti con delle foglie avvizzite, quindi mi ha richiamato, io ho ricontrollato le piante, ho visto che c'era il fosso di fianco e c'aveva degli olmi secchi, quindi lo scoliti dell'insetto, il vettore dell'infezione, l'ha riattaccata. Però lei mi ha ringraziato intanto perché io ho curato i due terzi delle piante, un terzo già si era seccate negli anni passati e lei non si aspettava un risultato del genere. Adesso quest'anno ha già tolto le ramette secche e vuole che le reintervenga, nel senso che faccio una bonifica non a tutte le piante, ma a 4-5 piante che sono state riattaccate, rifaccio la bonifica perché praticamente gli fa arredo intorno a casa, insomma, solo rimarrebbe al deserto. Il problema lì è sempre quello, quell'insettino che abbiamo visto. Il problema è l'insetto, esattamente. lì, cioè, o se fai trattamenti su foglia, oppure se fai l'endoterapia, che comunque è meno impattante, poi adesso è anche un problema anche a reperire i prodotti perché ci vuole il patentino, non è che puoi chiunque, cioè se potrebbe fare il trattamento su chioma sistematicamente eviti che l'insetto vada sull'olmo, però chi è che lo fa? non c'hanno l'attrezzatura, sono piante da arredamento, sono alte, sono piante che superano 3 metri abbondantemente, 3, 4, 5, 6, 7 metri, con cosa ci arrivi? Se non c'hai l'attrezzi, insomma, non è che... Certo, quindi insomma, invece in questo modo riusciamo, è riuscito Sauro a salvare molte piante. Altre foto che abbiamo, eccola qua. È sempre quella della signora. Volevo dire che tra l'altro la malattia non è solo l'insetto che la trasmette, ma anche anche sulle radici, fra radici è comune che i patogeni si trasmettano quando toccano le radici se passano all'infezione, quindi di conseguenza io con l'endoterapia, questo sistema qui, arrivo anche sulle radici. Ah, quindi radice di pianta malata con radice di pianta siana. Dopo vedremo con dei nuci che, sempre con un patogeno, che fra radice e radice c'era un crescendo, la prima pianta malata, poi oltre e oltre, dopo le vedremo quelle lì, però fra gli olmi, praticamente se c'è l'olmo malato, fra radice si attacca la malattia. Invece con l'endoterapia tu non vai solo sulla chiono, vai dappertutto. Esattamente, ma questo è talmente semplice la cosa, bastava pensarci prima, come il lavoro del Colombo, no? Il lavoro del Colombo era sodo, perché si stanno andando rotto. E vabbè, alle volte vedete, cari telespettatori, le cose più semplici sono le cose più efficaci, come appunto questa pratica che mette in campo, è il caso di dire, saura allegrezza. Vediamo altre foto che ci spiegano veramente. Ecco qui. Sì. Cosa vediamo? Questo è un olmo siberiano, che dovrebbe essere stato in teoria immune dall'agrafiosi, invece in pratica mi ha chiamato l'agricoltore. L'agricoltore, questo qui è sempre una casa di campagna ristrutturata, uso villa, insomma. Mi ha chiamato e l'olmo siberiano ci aveva l'agrafiosi. Poi io sapevo, poi dopo mi sono informato alla forestale che mi hanno detto che hanno problemi con gli olmi, perché praticamente queste piante all'origine resistente all'agrafiosi adesso si sono modificate e praticamente prendono l'agrafiosi. C'è rimasto l'olmo cinese che è praticamente resistente all'agrafiosi, però il patogeno sta mutando in continuazione, quindi di conseguenza ecco perché uso più principi attivi dentro in modo che non faccio prigionieri i fungini, insomma, crea un sinergismo e praticamente i funghi li elimino tutti. Gli insetto ho trovato il sistema per eliminarli. Ecco, i fungini invece... E con i funghi devo trovare il sistema, fa in modo che so che tipo di funghi sto combattendo, insomma, ascomiceti o omiceti, conosco le famiglie, conosco, come si dice, il mio pollo e quindi vado mirato. Vai mirato. E in più quest'anno ho aggiunto l'argento che praticamente mardà quel tocco del... Certo, sì. Bene, guardiamo altre foto perché è bello questo paragone tra il primo e il dopo. Questo è il nuovo. Questo è un nuovo. Questo è nuovo. Sì, questo qui è da Ustilio a Sant'Ippolito vicino al Tris, questo qui è un olmo che ce ne ha due. Uno non so se si salverà, questo qui sicuramente sì. Questo è un olmo che non so quanti anni ha, ma questo ne ha tantissimi. Questo c'ha già le bottigliette sotto, vero? C'ha già le bottigliette. Il proprietario mi ha detto che lui era ragazzino e già era così. Quindi adesso lui ha più anni di noi altri, insomma, però ci teneva in modo particolare perché lì c'era proprio da affetto e... Effetto, ambe due le cose. Quindi quello lo stai lavorando adesso? Questo l'ho fatto adesso, l'ho fatto perché non so se ha visto la trasmissione su Fano TV, penso che l'abbia vista pure lui e per lui era un magone, insomma, un dolore del stomaco, aveva cestolmo che si seccava, insomma. Altre cose? Eccole. Rodilegno. Ecco, qui affrontiamo un altro argomento, giusto? Questo è un altro argomento, un altro insetto estremamente dannoso, sia per le querce che in pratica le fanno essiccare. Rodilegno praticamente è un insetto che viene fuori da metà giugno a metà agosto praticamente, da adesso fino a metà agosto. Ci hai portato una tabella anche, no? Dopo ci sarà la tabella. Questa qui, questa quercia qui, l'avevo fatta vedere anche l'anno scorso e quest'anno ho rifatto la foto, ma è uguale all'anno scorso, non è... Questa è sempre in cura perché c'ha le bottiglie, dovrebbe essere un 2016, un 2015, non mi ricordo. Però, voglio dire, alle volte non peggiorano, cioè il non peggiorare... Vabbè, quello che non ti uccide dovrebbe andare più forte, ma nello specifico sta funzionando, voglio dire. Quindi, anche lì è stata una bella soddisfazione su questa quercia e ho fatto tante altre querce secolari che mi hanno richiamato, ne ho altre da rifare anche perché nessuno arriverebbe mai in cima sulla chioma a fare il trattamento. Poi dopo la quercia è soggetta a oidio, è soggetto a sto rodilegno, che dopo vedremo la tabella, è soggetto a degli insetti galligeni, insomma, io praticamente la bonifico la pianta. E la miscelata che faccio, in realtà, io la uso su tutte le piante, perché tanto che la faccio il problema è uguale per tutti, per cipressi, quindi io curo funghi, curo batteri, curo insetti. Cioè metto dentro tutta la cosa e poi... Aggrandisci, insomma, il problema... Sì, nel senso che lo risolvo, è proprio la radice, per esempio, dirlo, sì. È la radice. Allora, altre foto, Riccardo, vediamo quello che ci ha portato... Ecco, la tabella di cui parlavamo prima. Allora, questa è una tabella che io, se volete, ve la faccio avere, insomma, nel senso che la tabella di per sé non dice niente, però faccio... Volendo, si possono fare delle trappole per ciò che riguarda il rodilegno. Le trappole si possono fare prendendo una bottiglia, una bottiglia, adesso io ce l'ho piccolina da mezzo litro, ma se prendo una bottiglia da un litro e mezzo, due litri, ci si mette un bicchiere d'aceto forte, un bicchiere di acqua e due cucchiai di zucchero. Si agita e si sbatte e si fa un buco come due euro, qua. Questa altezza qui. Ecco. Quindi la appendete sotto, sotto la pianta, e praticamente in Romagna la usano come monitoraggio per ciò che riguarda gli insetti, che sono quelli della tabella. Però nel dettaglio, vedete, se non so se si può vedere il rodilegno sotto, eccoli qua, sono due tipi di rodilegno, rodilegno rosso e rodilegno giallo. Ah, quelli nel centro sono. Quelli nel centro. Praticamente dentro questa bottiglia ci vanno i rodilegni. Voi sapete che sta sfarfallando il rodilegno che sta attaccando la pianta, che potrebbe essere o un melo, o un noce, o la quercia, perché sono inconfondibili come insetti. Dopo ci può sfarfallare anche la tignola dell'olivo, la mosca dell'olivo, però i rodilegni sono i primi che vanno dentro, oppure la tignola della vite, la tignola del pesco, sono i primi insetti che vanno dentro. La cura è semplice e non è costosa, perché se non avete l'aceto forte, magari fate l'aceto quello del supermercato. Allora, ripetiamo la ricetta. Allora, prendete una bottiglietta, eccola qua. Un bicchiere di aceto, un bicchiere di acqua, due cucchiai di zucchero, agitate, poi fate un foro, solo un foro, chiusa, solo con due euro, come due euro, l'appendete all'interno della pianta, poi dopodiché sapete che gli insetti vi stanno attaccando le piante. Se ci sono dentro vuol dire che sono... Questa è una ricetta che io ho copiato in Romagna, se parla di roba come vent'anni fa, ventidue anni fa, il romagnolo non me lo voleva dire. Ah, ecco, siamo un po' conservatori. L'ho scassato, l'ho scassato, te l'ho detto perché mi hai stufato. Poi prima l'ho provata a casa mia, e poi ho visto che funzionava, e adesso dopo ho visto in giro le varie varianti delle bottiglie. Quindi questo ti serve per sapere se la pianta è aggredita. Esattamente, qualche volta si vedono le femmine degli afidi, perché l'afidi, il pidocchio, quello delle rose, la femmina ha le ali per spostarsi, no? Qualche volta entra nella bottiglia, tu vedi quando c'è l'attacco, allora decidi di intervenire, no? O con sistemi biologici, oppure fai l'endoterapia, oppure tregoli come uno meglio crede, insomma, ecco. E questo si mette in questo periodo anche questa trappoglia? Ah, io la metto subito. Il problema è solamente luglio-agosto, quando le temperature arrivano a 36-37 gradi, che praticamente evapora l'acqua, la devi solamente rimpozzare. Invece fino ai primi di luglio, anche sulle mele, per esempio, il verme della mela, con la bottiglia del genere, la salvi la mela. È chiaro che quando la mela diventa grossa, la pezzatura è grossa, quindi la superficie d'attacco dell'insetto, della carpocapsa, è maggiore e si buca. Però tu sai che ti arriva l'insetto, insomma, quindi se decidi di fare un piretroide naturale o altro, puoi farlo, insomma, ecco. Perché sai che ti arriva l'insetto, vai mirato, vai. Vai mirato, quindi, insomma. E non è poca cosa andare... Saggezza popolare, vedete, alle volte anche qui, l'esperienza. Ma ci mancherebbe altro, tocca sempre prendere qualcosa dalle persone grandi, perché si impara sempre qualcosina. Senti, ci sono anche tutta un'altra serie di piante, che le hai citate prima, no? I cipressi, il noce, anche questi sono trattati da te. Sì, io faccio, non so, la foto dopo cos'era? Vediamo. Sì. Questo cos'è? Ah, questi sono i noci, praticamente, questi sono noci di, a Montegiove, sono praticamente da Antonioni e Andrea, e praticamente, lì qui c'è proprio un patogeno, un fungo, praticamente, che si è trasmesso da radice, la prima pianta che vedete, già è in cura questo qui, quest'anno non... Quella in primo piano. Questo è in primo piano, quella in primo piano, c'è la bottiglietta sotto, ma anche le altre hanno le bottigliette, praticamente, la mattia ha colpito, prima la prima pianta, poi la seconda meno, la terza meno, la quarta meno, fino alla quinta, che praticamente, quindi lì è proprio un classico esempio di noce, che è soggetto a patogeno, oppure a rodilegno, nello specifico c'è un patogeno, io quello l'ho curato, le piante, però lì va fatta comunque sempre la potatura, bisogna lavorarci, non è che arrivo io, se uno ha un braccio in cancrena, insomma, io te lo devo tagliare, per forza, non è che posso pretendere che tu do l'antibiotico e tu passi, capito, questo è il concetto. Certo, altre foto, guardiamole, perché ci spiegano tante cose. Questo è cancro del cipresso o corineo del cipresso, corineo o cancro, la stessa cosa, e praticamente queste sono piante in cura, e poi dopo, sulle altre foto, queste sono piante già curate, praticamente, l'agricoltore ha provveduto a togliere il secume o altro, ha fatto, un bel lavoro. Fra un po' è caduto, perché un po' sono caduto per quanto loro, un po' ha fatto una bella opera e alla fine c'ha le piante sane e lui con soddisfazione essendo in pensione dice che sto in mezzo al verde. Esattamente. Esatto. Che vediamo adesso? Ecco qua. Ecco, questo è un olivo secco da rogna, io l'ho curato questo qui, ma siccome adesso questo qui è senza chioma, ma va sicuro che adesso ha la chioma e ne ho curate a decine con la rogna, perché la rogna in pratica è un batterio, il batterio si cura o con sali d'argento o con altra roba che c'è dentro la bottiglietta. Certo. Quindi sto curando un batterio e non un fungo in questo caso. Anche la famosa xylella per esempio è un batterio. Se uno la curasse con o i sali d'argento o con... Non è efficace. È efficace. È efficace. Sì, e c'è l'insetto che la scontacchina da eliminare, però nello specifico quello che si applica per ciò che riguarda il mal dell'esca della vita che vedremo più avanti o per la xylella che è un batterio si cura lo stesso, si cura. Quindi anche l'olivo è una pianta che si può curare con l'endoterapia? Il classico uovo di colombo se ci avessi 100 olivi io me li ricurerei tutti per conto mio, insomma. Cioè non è che me li faccio abbattere. Certo. Perché comunque gli faccio la prevenzione. Non è che sto lì a buttaggiù fungicidi o battericidi a capocchi, insomma. Qua ci vado in mirato e vado dentro. Quindi se arriva l'insetto comunque c'ha... Anche se punge la pianta che trasmette il batterio comunque c'ha il battericida dentro la pianta. E quindi muore. Ma se uno usa neonicotinoidi, insetticidi a base di nicotina che non è che sono impattanti sull'uomo, praticamente la pianta si immunizza per quanto sull'insetto non ci va proprio perché sente che sente pericolo e quindi praticamente la evita la pianta. Io faccio questo sia sugli ulmi che sulle altre piante. Metto sempre l'insetticida perché io non voglio che gli insetti vadano intorno alle piante. La nicotina dà pastiglio a tutti, insomma, gli animali. Invece all'uomo è a qualcuno piace. A qualcuno gli piace. Vediamo altre foto. Eccolo. Questo è un... Questo è un cedro con corinio e cancro ma è in cura. È bello, sì, è in cura e questo qui è una pianta da effetto su una villa, insomma. Bello, molto bello. Sto curando. Questa chioma così grande. Il prossimo anno se vi facciamo la trasmissione ve le faccio vedere. Vediamo l'effetto. Come no? Quindi teniamole buone, Riccardo, queste foto perché ce le troviamo. Ci hai portato altre? Altre piante, sì, altre piante ho fatto. Però queste sono vigne e sto provando a curare il mal dell'esca. L'ho fatto l'anno scorso e ancora non c'ho il risponso sulla vigna perché il mal dell'esca è sempre una batteriosi, pure questa e io sto sempre usando battericidi. Ecco, qui vediamo proprio una tua bottiglietta attaccata. Sto facendo il mal dell'esca ma ancora non c'ho il risponso perché praticamente l'ho fatto l'anno scorso, l'ho fatto. Però c'è la possibilità di curare i batteri perché in natura si dividono fra funghi e batteri, no? Quelli che attaccano e distruggono le piante. C'ho i batteri qui. E quindi anche la vite? Come la rogna, come la vite oppure come il cancro di cipressi comunque sia che cerco in qualche maniera che faccio... Bene, allora, ci hai fatto un escursus a 360 gradi di tutto quello che si può fare con questa endoterapia. Dovete considerare solamente che le piante da per sé, insomma, adesso a parte qualche pianta che hanno il ciclo vitale breve come il pesco che durano 15-20 anni ma dopo il resto le altre piante si curano tutte. Puoi curare piante di 15 metri di altezza, di 10 metri sempre da afidi, da insetti, da acari. Le noci, per esempio, in questo periodo le noci stanno prendendo le foglie gialle, hanno un attacco di ragnetti, di acari. Con l'endoterapia si riesce a curare pure questo. Pure quello. Benissimo, allora, se avete insomma, problemi di questo genere, se avete piante che stanno mostrando strani segni, insomma, mettetevi sul chi va là, Saura Legrezza è a vostra disposizione, i riferimenti li vedete vicino a lui, Saura, tu hai... Comunque il consulto è gratuito, voglio dire, eventualmente, io ho un sacco di clienti che mi mandano su WhatsApp le foto, io gli dico si può fare o non si può fare, insomma, oppure, dico anche proviamoci, oppure, se te va, proviamoci, è chiaro che la miscelata un pochino costa, voglio dire, anche perché tutti questi prodotti che metto dentro, se è fattibile la cosa del solito, se si prova, del solito va bene al 75-80%, anche perché qualche volta mi arrivano dei casi insolvibili. Quindi casi disperati, come ci sono anche, come si dice. Però l'importante, ecco, prima Saura l'ha detto, è importante anche il periodo, il periodo, non spingiamoci oltre luglio e massimo i primi di agosto per intervenire, perché questo è una garanzia di buon successo. Esattamente, no? E quindi, chiamatelo per tempo e, insomma, è a vostra disposizione. Saura Allegretta, insomma, che pratica l'endoterapia con successo, come abbiamo visto anche dalle foto, tra il primo e il dopo, insomma, penso che le foto parlano da sole, tecnico fitoiatra e quindi è in zona, lui gravita sempre da queste parti perché ti ci porta il tuo lavoro. C'ho anche nuova agenzia del Consorzio Agrario che seguo su Ancuna fino a Fabriano arrivo. E quindi il tuo da fare ce l'hai. Un bel giretto, cioè, sì. Comunque sia, il consulto è comunque gratuito, voglio dire, io amo dire che la pianta è secca, quanto ve lo dico io. Cioè, non c'è una pianta secca a prescindere, nel senso che io prima scavo il legno, vedo se è secco, oppure so che problema c'ho davanti e dico sì, se è secco oppure non se è secco. Insomma, Sauro trasmette anche la sua passione perché chiaramente il suo lavoro è anche la sua passione, vedete, quando parla delle piante si inorgoglisce perché per lui salvare una pianta è un motivo d'orgoglio. è la passione mia, è la tua passione. Bene, grazie Sauro, noi siamo in fondo a questo approfondimento, quindi ripeto, rivolgetevi a lui con fiducia se avete piante in difficoltà e lui vi saprà dare il giusto indirizzo. Grazie Sauro. Grazie a voi per l'attenzione e a risentirci, insomma. Ci fai sempre, ci erudisci sempre su questo aspetto che fa parte della nostra vita, le piante e tutto il verde che ci circonda è vita ed è parte di noi. Grazie anche a lui che se ne occupa e che lo cura il più possibile. allora, grazie ancora a voi per essere stati in nostra compagnia e ai prossimi approfondimenti. Grazie ancora. A voi. A voi. Grazie a tutti.